Mister, come valuta questo pareggio qui a Santa Maria Capoetra? Per noi era fondamentale fare risultato dopo la prima partita dove abbiamo fatto sicuramente malissimo. Una partita molto impegnativa, difficile, un caldo della Madonna. Direi una partita equilibrata, mi sembra un pareggio giusto. Per noi era importante non andare a casa senza niente. Abbiamo provato a vincere fino in fondo, però va bene anche questo. Mister, considerando le due settimane di stop, perché la settimana scorsa è stata inviata la gara con la Dacia Cerignola, siete contento della reazione della squadra? Sì, sì, assolutamente. Per noi è la seconda partita di campionato, abbiamo bisogno di giocare perché la squadra è quasi tutta nuova, quindi abbiamo bisogno di verifiche importanti. Oggi è una verifica importante contro un'ottima squadra. Siamo contenti di come abbiamo tenuto il campo e del risultato finale. Che idea si è fatto del Gladiator? Un'ottima squadra, ben messa in campo. Sicuramente è un campo difficile per tutti questo.